Musica Ancora un bene ritrovati al tavolo di Happy Hour, siamo al New in via elettricesimo, Tiziana Pasiana dell'associazione Se non ora quando, c'è una spillina che campeggia sulla maglietta della signora, dobbiamo dire intanto grazie per essere arrivata. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, se non ora quando, che cos'è? Se non ora quando, Udine è un'associazione di volontariato, di promozione sociale, che è qui a Udine, da opera a Udine dal 2011, noi ci colleghiamo a quello che è stato il movimento di Se non ora quando. Anche noi a Udine siamo state in movimento per un paio d'anni, poi dalla fine del 2013 ci siamo costituite come associazione. Se non ora quando è un movimento che è nato, come dicevo, nel 2011 per volontà di un comitato promotore che aveva base a Roma, formato da donne, sempre da donne, che hanno sentito la necessità di manifestare la volontà di cambiare il paradigma secondo cui le donne in Italia purtroppo ancora nel terzo millennio vengono trattate, considerate come degli oggetti. E questo ha dato impulso alla creazione di questo movimento che poi si è avuto uno sviluppo a livello territoriale e noi qui a Udine abbiamo costituito prima questo movimento nel settembre del 2011 e poi si è trasformato in associazione nel dicembre del 2013 proprio per radicare anche sul territorio quello che vuole essere questa volontà di cambiamento. Tiziana, parli di questa associazione e pensi anche a come prevenire la violenza sulle donne che purtroppo è ancora molto diffusa. Benissimo, mi invita a cena praticamente. Noi non ci occupiamo solo di questo ma ci occupiamo prevalentemente di questo perché purtroppo la violenza di genere, nel caso in cui ha come oggetto le donne è purtroppo il risultato di quello che è una cultura patriarcale che è ancora estremamente radicata anche se inconsciamente nella nostra società, nel nostro tessuto sociale. Quando dico nostro intendo italiano, friulano purtroppo in particolare perché noi non siamo per nulla esenti da questo tipo di dramma. Potremmo fare un lungo elenco di esempi molto vicini a noi e molto recenti, non lo farò perché è ovvio che va fatto nella giusta sede. La violenza di genere è una piaga sociale che noi come associazione cerchiamo di contrastare ponendo in essere una serie di iniziative che vogliono essere quelle di sensibilizzazione al fatto che questo problema esiste. È una piaga talmente grande che neppure si percepisce, neppure si vede. Veicola però un grossissimo problema che è quello innanzitutto dell'infelicità generale perché questa abitudine a considerare la violenza contro le donne una cosa assolutamente radicata nel vivere di tutti i giorni innanzitutto impedisce di percepirla ma poi impedisce di sradicarla. Non c'è nessun fondamento di ordine generale al fatto che le donne subiscano violenza solo perché sono donne, questo è il problema. Ecco, senta, però voglio dire, gli uomini continuano a picchiare, a maltrattare anche dal punto di vista psicologico, ma secondo lei lo fanno perché sanno tanto non mi denuncia, tanto non mi beccano e tanto quando mi beccano non mi puniscono come si deve? Sì e no, nel senso che su questo c'è molto da parlare, infatti noi come associazione abbiamo già dall'inizio della nostra attività ideato e progettato un format la cui promotrice è stata proprio la nostra presidente, l'avvocata Andreina Baruffini che si occupa proprio di cercare di sviscerare questo problema e di affrontarlo in tutti i suoi aspetti. Lei dice correttamente, nel senso che a un certo punto della vita sociale, gli uomini, perché la violenza di genere è un problema degli uomini, purtroppo le donne sono una della principale fascia di... a noi non piace parlare di vittime, però di bersagli sì. La violenza di genere si sviluppa soprattutto, sempre da parte degli uomini, verso soprattutto le donne. Poi nella violenza di genere ci sono anche purtroppo tutti gli altri obiettivi perché stiamo parlando anche di omofobia, stiamo parlando di tutte quelle categorie che vengono veicolate dagli stereotipi di genere. E qui dovremmo andare veramente ad aprire un dibattito molto lungo. In questo format che noi promuoviamo, ormai abbiamo già fatto più di 13 edizioni, si chiama La Voce del Lupo. È un convegno dibattito in cui facciamo intervenire ogni volta degli esperti in quattro settori fondamentali che sono la psicologia, associazioni che si occupano di uomini maltrattanti e del recupero degli uomini maltrattanti per venire alla sua domanda. Esperti di diritto e rappresentanti delle forze dell'ordine. Noi qui a Udine abbiamo sempre il vicequestore che è sempre stato con noi in questa iniziativa. Il problema della violenza agita dagli uomini contro le donne, solamente perché si tratta di donne, è molto complesso. in linea di massima è legato alla paura dell'uomo che ha nel vedersi sfuggire di mano quello che considera una proprietà. Quindi lo stereotipo principale da abolire, da sradicare è quello di capire che c'è un problema relazionale negli uomini che fanno difficoltà ad affrontare. Nel senso che c'è stata un'evoluzione nei costumi sociali, c'è stata finalmente anche un'evoluzione nel vivere felice nella società che ha visto una velocità diversa fra uomini e donne, una capacità diversa di prendere consapevolezza. Dovessimo essere in presenza di un religioso, potrebbe dire c'è sempre tempo per redimersi. Lei parlava di uomo essere maltrattante, ma questo può essere corretto e magari aiutato a non farlo più? Assolutamente sì, proprio sì. Ci sono delle associazioni o delle realtà che fortunatamente adesso stanno avendo uno sviluppo sempre più forte. Noi faccio per esempio al Mente, noi durante la Voce del Lupo, al convegno della Voce del Lupo invitiamo sempre un esponente di un'associazione che si chiama Maschile Plurale che si occupa di questo. Sono tutti uomini che si sono posti il problema, si chiedono perché devono vivere in una società in cui sono praticamente costretti dall'abitudine, da quello che tutto il resto del mondo si aspetta ad agire violenza quando non vogliono agire la violenza perché non fa parte del loro vivere, del loro sentire. E poi ci sono delle altre realtà anche qui in Friuli molto radicate in cui si occupano del recupero, del tentativo di aiutare gli uomini maltrattanti. Il problema è che ci vuole la volontà, la presa di consapevolezza dell'uomo che a un certo punto con l'aiuto di questi terapeuti, anche se potrebbe non essere il termine corretto, ma questo appunto mi sia concesso, non sono io che mi occupo direttamente di questo, all'interno dell'associazione di questo argomento. Ci sono queste realtà che si occupano proprio, hanno proprio lo scopo di accompagnare gli uomini maltrattanti, anche stiamo parlando quelli di già anche condannati, quindi anche stiamo parlando a livello di carcerario addirittura, e tentare di accompagnarli nello sviluppo di una consapevolezza diversa e spesso ci riescono. Purtroppo non sempre perché ci vuole questa presa di coscienza da parte maschile, perché ribadisco la violenza di genere è un problema degli uomini, non è un problema delle donne. Ecco, senta, lo avevamo detto proprio prima di iniziare l'intervista, voi vi occupate sì di maltrattamento sulle donne, però fate anche altro, così stiamo per esaurire anche il nostro tempo. Che cosa fa l'associazione oltre a questo? Allora, noi creiamo, abbiamo l'ambizione di creare tutta una serie di iniziative che servono proprio a portare nell'abitudine comune, quotidiana, nel sentire quotidiano, proprio nell'agire quotidiano, una consapevolezza diversa, un paradigma di genere, un paradigma diverso sempre in ottica di genere. Quindi noi cerchiamo di proporre sul nostro territorio, ma lo facciamo anche in ambito nazionale e in alcuni casi sovranazionale, perché siamo anche collegate con realtà a noi consimili. Per esempio noi abbiamo fondato, se non ora quando, Buenos Aires in collaborazione con la nostra corrispondente che è nostra socia ovviamente. Una delle nostre iniziative che ormai è diventata la nostra bandiera è l'organizzazione del Flash Mob One Billion Rising, che si tiene ormai, quest'anno è stato il quinto anno, lo organizziamo ogni anno qui a Udine, lo facciamo il 14 di febbraio perché è un evento di ordine mondiale, in tutto il mondo quel giorno viene fatto questo Flash Mob, questa mobilitazione veloce, proprio con lo scopo di sensibilizzare sul fatto della violenza di genere. Tiziana, chiudiamo, dove vi si trova? C'è un sito internet e anche magari una sede? Allora, sì, noi abbiamo una sede, anche se ci troviamo spesso in Casa delle Donne, abbiamo un sito internet che è se non ora quando udine.org, abbiamo una mail che è snoc, che è l'acronimo s-n-o-q-d-quadro, punto ud, come udine, chiocciola, com, gmail.com. Grazie. Allora, grazie a Tiziana Pasiana della associazione Se non ora quando udine, grazie al nostro Paolo Bassi, alla prossima, arrivederci. Grazie.